Giants avalanga sui briganti Napoli hanno fatto tutto bene i padroni di casa allenati dal geotisma che domenica sul campo amico e supportati dal calore del proprio pubblico hanno vinto e convinto confermando gli obiettivi di inizio stagione ovvero quelli di navigare nelle parti alte della classifica. Un match mai messo in discussione grazie ad una prestazione sopra le righe del running back William Petrone. In evidenza come sempre il generosissimo quarterback rosso-blu John Rock. Ma veniamo alla partita. Il primo quarto si chiude 33-0 a favore dei Bolzanini. Nella ripresa i briganti tentano la reazione che si rivela più che mai improduttiva tanto che i padroni di casa allungano e chiudono la seconda frazione sul 13-0. Il terzo e l'ultimo quarto si chiudono con il dominio degli altoatesini che mettono al sicuro il risultato con 2-7-0. Grazie a questa vittoria i Giants mettono in cassaforte il quarto successo stagionale. Attualmente se giochiamo in questa maniera l'unica squadra che ci sarà fastidio sarà l'ultima partita i Panthers di Parma che è per l'Italia. Altre squadre, sì i Lions potrebbero essere una squadra molto impegnativa e anche il Torino che ha vinto con i Dolphys Ancona ieri sera. Per le altre ritengo che sono partite chiaramente giocando bene e senza prendere sotto gamba che possiamo portare a nostro favore. Adesso andremo a Bologna. Con Bologna abbiamo sempre avuto uno scontro molto forte ma io ritengo che questa squadra può battere bene Bologna.